Ha toccato anche il Mugello e la Val di Sieve la serie di sopralluoghi del presidente della regione toscana Enrico Rossi per valutare con i sindaci, il genio civile, i consorsi di bonifica e i danni del maltempo di metà novembre. Prima tappa assagginale, Borgo San Lorenzo, dove l'alveo della sieve sarà ripulito dai sedimenti, poi alle sieci dove sono previsti l'adeguamento del sistema fognario, il rialzo del muro sulla sieve e la ripulitura del letto del fiume. A Valle sarà poi installato un sistema di allerta per mettere in sicurezza la zona. Rossi ha ricordato i 100 milioni all'anno per la sicurezza idrogeologica che hanno evitato l'alluvione. A Figline Valdarno il presidente insieme alla sindaca Giulia Mugnai ha incontrato i residenti e ricordato i lavori fatti in zona a partire dalle casse di espansione di Pizziconi 1. Ora, ha poi detto Rossi, è in corso l'appalto per la Pizziconi 2 che prevede il passaggio delle acque dell'Arno sotto l'autostrada mentre la cassa di Restone è in progestazione. Grazie. 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 Grazie.